Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, risponde all'interrogazione illustrata. Prego ministro. Grazie signora Presidente. Io condivido pienamente l'analisi e la complessità dell'analisi che è stata fatta dalla senatrice interrogante e come è stato anche ricordato posso confermare che noi sin dal primo decreto appunto dal Curo Italia abbiamo inserito nel mondo dello sport, abbiamo immesso nel mondo dello sport risorse che forse mai si sono avute prima evidentemente a causa della pandemia però diciamo che questa diventa anche un'occasione per molte realtà sportive per poter anche migliorare il proprio impegno e il proprio lavoro. Vorrei ricordare che non solo abbiamo dato i 370 milioni di euro per l'indennità ai lavoratori sportivi ma abbiamo creato un fondo a fondo perduto di 150 milioni di euro di cui quasi il 50% è stato già erogato. L'altra parte verrà sicuramente messa a disposizione perché man mano che evolve la situazione cerchiamo anche di finalizzare questo fondo a fondo perduto in base alle esigenze che emergono. Per fare un esempio molte associazioni e società sportive si sono lamentate del fatto che non hanno accesso più alle palestre delle scuole che invece sono un luogo che in molte realtà dove manca un impianto sportivo dove si può esercitare un'attività di base per i ragazzi e per le ragazze. Allora noi d'accordo col MIUR e con la Ministra Azzolina invieremo una circolare nei prossimi giorni a tutti i dirigenti scolastici per invitarli a concedere le palestre ma soprattutto mettendo a disposizione di SSD un fondo sempre a fondo perduto per la igienizzazione delle palestre e di tutti gli spazi che verranno usati dalle società sportive perché questo era il vero motivo, il problema per cui le scuole non venivano più in questo periodo messe a disposizione. Abbiamo inserito 90 milioni per il credito d'imposta per le sponsorizzazioni e questo soprattutto va a prendere una fascia medio-medio alta dei club sportivi quindi cercando di raccogliere veramente la complessità delle richieste così come la sedatrice interrogante rappresentava cioè dal mondo dello sport in base al mondo di più alto livello professionistico. Ovviamente queste sono le misure che abbiamo adottato a livello emergenziale nella prima fase ma adesso io ho già inviato al Ministro dell'Economia Gualtieri le mie proposte per la legge di stabilità che discuteremo nel prossimo Consiglio di Ministro e sono certo che anche nella prossima legge di stabilità ci saranno misure altamente importanti per il mondo dello sport. Per quello che riguarda le competizioni io penso che al momento i protocolli in vigore sia per la serie A di calcio come per le associazioni e società sportive siano protocolli validi l'importante è che vengano rispettati. Se poi c'è qualcuno che non li rispetta ad ogni livello o a livello alto o a livello più basso ovviamente poi si creano i casi che leggiamo anche a livello di cronaca. Quindi mi auguro che possano essere rispettati. Se saranno rispettati e se la situazione generale del Paese lo consentirà io spero e mi auguro ovviamente al Ministro dello Sport che tutti i campionati di ogni ordine e grado possano continuare a svolgersi nel migliore dei modi nell'interesse dei calciatori, tutte le persone che lavorano in questo mondo ma anche tutti gli appassionati di sport in Italia. Grazie.